Fedez vi ricordo che sarà presente alla festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria dal 14 settembre 2024 al 17 settembre dopo un acceso dibattito con la comunità cattolica grazie alla decisione del comune di organizzare un concerto del famoso rapper nei festeggiamenti arriva dunque un'autizia ufficiale, il buon Federico ci sarà dunque nonostante qualche piccola perplessità e opposizione da parte di diversi fedeli qualcuno aveva dichiarato pubblicamente un dissenso nei confronti di Federico Lucia in arte fredex ma ripeto che è arrivato per fortuna e finalmente all'ok da parte dell'Arc Diocesi dialogo e accoglienza sono i nostri valori fondamentali dunque accettiamo di buon grado che Fedez presenzierà alla festa della Madonna va bene? quindi gridate alla felicità più totale che esista in Calabria da questa bellissima regione ubicata nel meridione italiano perché ripeto Federico ci sarà bene, il video termina qua fatemi sapere cosa ne pensate datemi le vostre opinioni ci tengono a averle iscrivetevi tutti al canale e ciao da Leandro, narratore italiano questo video non vuole, ripeto, non vuole leggere la privacy di Fels all'anagrafico di Federico Lucia ma solo informare di stoppoli nasce per questo motivo e non per altri motivi una buona giornata a voi